ho fatto caso capite? capite? ma si è la tua naturalmente ma che era la vera tanto tempo tatuato mi mi dà la foto di sudare di guanciale mamma mia mamma mia vogliamo ribagnare là? vabbè a scopo voglio rinforzare? vabbè a scopo 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 vabbè ma guarda che male movimento così circolatore eh bravo bravo cosecchi un pochino di pasta Armando eh Armando rinforzato rinforzato è uscito da un chiep p eh era lì non ma Sì, sì, butta giù Dimmi tu, dimmi quando ci vogliamo Ma come, ma qui c'è stanno spaghetti Qui è un pallimone Qui è un pallimone Qui è un pallimone Vai 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 L'ora è cento del quarto Oh Ciao 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 Grazie a tutti Grazie a tutti